Sorella, ho una domanda della Bibbia e si trova in Esodo 23, versetto 13. 23, 13 che dice farete attenzione a tutte le cose, sì. Che vi ho detto e non pronunzierete il nome di altri dèi e non lo si oda uscire dalla vostra bocca. Sorella, la mia domanda è, quale dovrebbe essere l'equilibrio giusto oggi, considerando che abbiamo la possibilità di viaggiare in altri paesi e conoscere culture diverse, molte delle quali hanno tradizioni ancestrali che, in un certo senso, hanno cercato lo spirituale o una concezione di Dio. Vorrei capire, sorella, fino a che punto noi credenti possiamo visitare questi luoghi, come ad esempio templi induisti, sapendo che per loro è un modo di avvicinarsi a Dio. Sì, sorella, ho capito la sua domanda. Come dovrebbe essere il nostro comportamento di fronte a queste situazioni, soprattutto quando la sorella dice che qualcuno va in gita, va a passeggio, a conoscere nuove città, nuovi paesi. Non dobbiamo andare in altri templi, nemmeno per curiosità, e dire, ah, per esempio, il Tempio di Buddha o un altro tipo di tempio, vorrei visitarlo. No, non entrate, perché se voi entrate in altri templi, perdete benedizioni, perché il diavolo è lì pronto per seminarvi la curiosità. E poi le conseguenze sono gravi, perciò non fatelo, perché volete conoscere questi templi, che frutti vi portano, che spiritualità vi portano. E invece, così facendo, voi fate ingelosire il Signore. Perciò noi dobbiamo fare attenzione. A noi non deve interessare andare in altri templi. Andiamo al lago invece, andiamo ai giardini, visitiamo un'architettura, un edificio, come è stato costruito, invece di andare in altri templi pieni di idoli. Perché a questo Dio non piace e a noi non ci deve interessare, né sapere, né conoscere. Non ci interessa sapere neanche quale cultura ha costruito quei templi. A noi deve interessare Dio, perché Dio è vivente. E bisogna onorare Dio, ed essere gelosi della parola di Dio, e fare attenzione a questo. E qui il Signore in Esodo insegnava al popolo, dicendo, fate attenzione a tutte queste cose che vi ho detto. Gli altri dèi non pronunziateli nemmeno. Non lo sia da uscire dalla vostra bocca. Quindi che dalla vostra bocca non escano altri nomi di altri dèi, di una statua, di un santo che magari ha fatto un miracolo, e poi voi date testimonianza agli altri del miracolo che avete ricevuto da quel Dio o da quella statua. Poi magari, a causa della curiosità, possiamo dubitare e dire, sarà che forse è vero quello che dice questa persona che ha ricevuto il miracolo da quella statua? A noi non devono interessare queste cose. A noi devono interessare ciò che ci dice la Bibbia, ciò che ci dice Dio, lo Spirito Santo, ciò che Dio ci dice attraverso i sogni, le visioni e la profezia. Per il resto, dobbiamo starne alla larga. Dobbiamo fare attenzione. Una volta, un paio di fratelli di un paese, che non vi dico, stavano andando in automobile. E percorrendo la strada, si trovarono ad un luogo turistico, dove la gente andava in visita ad una statua di una certa vergine. In quel luogo c'era quella statua e la gente si fermava davanti ad essa per renderle culto e omaggi. Io ho sentito parlare di questo posto dove la gente si ferma e guarda, conosce e dà degli omaggi a questa statua. Questi due fratelli, incuriositi da quel luogo e da quello che diceva la gente, si recarono alla statua pure loro. A quel punto, il diavolo entrò in uno dei due fratelli e dopo che ebbero guardato quel luogo per curiosità, attenzione, per curiosità, ritornarono in automobile. Bisogna fare molta attenzione alla nostra curiosità, perché a causa della curiosità possiamo commettere molti errori. Quando i fratelli riprendono il viaggio in automobile, il diavolo entra nel fratello che stava guidando. E l'altro fratello lo vedeva con i denti lunghi, proprio come il diavolo viene rappresentato nei film, con i denti lunghi lunghi, tutto nero, con le corna e con un aspetto terrificante. Il fratello passeggero, quindi, ebbe paura, mentre l'altro fratello conducente, posseduto dal diavolo, rideva e rideva, travestito da diavolo, e rideva così tanto che stava guidando la macchina verso un precipizio. Allora il fratello passeggero sterzò il volante, ma il fratello conducente lo sterzò a sua volta dalla parte opposta con forza e lottavano entrambi con forza. Il fratello passeggero, allora, dovette supplicare il Signore e gli disse, Signore, aiutami, perché l'automobile sta finendo in un burrone profondo 300 metri. E quella fu la lotta. E voi, cosa pensate che sia successo? Dio si adirò con loro perché furono curiosi di vedere ciò che non dovrebbe loro importare. Tantomeno ai seguaci di Dio. Ai seguaci di Dio non devono interessare quelle cose. Ma i fratelli, per pura curiosità, stavano per cadere in un precipizio. Alla sorella, che ha fatto la domanda allora, Questa esperienza dei fratelli è la risposta. Perciò siamo saggi e intelligenti. Amiamo Dio. Leggiamo sempre la Bibbia per imparare. E vedrete che a noi non succederà nulla di brutto. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.